È partito questa mattina, anche in Sardegna, il click day nazionale per le aziende dell'autotrasporto che intendono rinnovare il proprio parco mezzi, nell'ottica di un aggiornamento green, più sicuro e meno inquinante. 25 milioni di euro messi sul tavolo dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture per tutta Italia per consentire alle aziende del comparto di sostituire i vecchi mezzi, rottamando quelli più inquinanti. Un incentivo che scadrà l'11 agosto e per il quale potranno presentare domanda esclusivamente tramite PEC le imprese di autotrasporto di cose per conto terzi e che siano in regola con i requisiti di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale e all'albo degli autotrasportatori. I documenti da presentare sono il modello di richiesta debitamente compilato, copia del documento di riconoscimento valida del legale rappresentante o del procuratore dell'impresa e la copia del contratto di acquisto dei mezzi per i quali si fa richiesta di incentivazione, purché abbia una datazione successiva al 24 maggio 2023. Con Fartigianato Trasporti Sardegna, che fornisce uno sportello assistenza nell'invio delle domande, raccoglie con favore l'opportunità offerta dal Governo in nome della sostenibilità ambientale, ma dichiara che è fondamentale che sia anche al centro delle politiche di incentivazione del settore e che gli imprenditori possano contare su sostegni economici più sostanziosi per poter rinnovare i veicoli con mezzi a bassissime emissioni, più sicuri e tecnologicamente avanzati.